Se la pratica sportiva deve essere intesa come attività preventiva a tutela della salute pubblica, tocca alle istituzioni creare le condizioni affinché essa sia praticata nei canoni della correttezza e della massima sicurezza. È il pensiero che il consigliere regionale Napoli ha esplicitato in merito alla questione della tutela sanitaria nelle attività sportive. Tra le modifiche da apportare alla legge regionale numero 59, che disciplina questa materia, ha proseguito l'esponente del PDL e è importante evitare le lunghe liste di attesa per le visite mediche degli atleti, dotarli di un tesserino specifico sul quale indicare l'attività svolta, ampliare le esenzioni in caso di necessari e ulteriori controlli specialistici, garantire la gratuità degli accertamenti resi indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all'attività fisica. Per quanto attiene alla sicurezza, a concluso Napoli, occorre prevedere fondi regionali per la dotazione di apparecchiature nei presidi locali e presso le strutture sportive principali, in modo da garantire mezzi adeguati agli operatori del primo soccorso. Grazie 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 Grazie